E' tutt'altro che natalizio e festoso il clima di questi giorni per i lavoratori Exilva, mentre si apre una settimana che potrebbe essere decisiva per il futuro del siderurgico più grande d'Europa con i suoi 60 anni di storia. Sono due gli appuntamenti in calendario. Mercoledì 20 dicembre ci sarà l'incontro a Palazzo Chigi, tre rappresentanti sindacali e quelli del governo, e venerdì 22, a ridosso del Natale, l'attesissima Assemblea dei Socii di Acciaierie d'Italia, Arcelor Mittal con il 62% delle quote da una parte e Invitalia dall'altra con il 38%. Al centro la questione delle risorse finanziarie è necessaria per garantire la continuità operativa di acciaierie d'Italia. Per mantenere l'attività servono subito 320 milioni che diventerebbero nel lungo periodo un miliardo e mezzo. Mittal, leader mondiale nella produzione d'acciaio, non intende investire. Per il bel paese, cosiddetto industriale, grazie all'ex Silva, è invece in corso lo studio della memoria legale presentata dai franco-indiani nell'ultima Assemblea, con cui si muovono critiche al governo per presunte mancanze nella formalizzazione delle risorse per la decarbonizzazione. I sindacati intanto propongono ancora la nazionalizzazione dell'ex Silva, ma l'opzione spacca le posizioni interne al governo. Da sempre d'accordo il ministro Adolfo Urso, contrario invece al ministro Raffaele Fitto, il quale non vedrebbe in questa strada reali garanzie di rilancio. Una terza possibilità estrema potrebbe vedere l'avvio su effetto della legge marzano di una procedura di amministrazione straordinaria. Lo scenario è il più drammatico di sempre, con la produzione e l'attività degli impianti e i minimi storici, l'assenza di manutenzione, la cassa integrazione, i mancati pagamenti e l'agonia dell'indotto. Si avvicina inoltre la data del 10 gennaio con la scadenza della proroga sulla fornitura del gas.